cari amici e cari amici bentornati risolviamo l'equazione 7 elevato a x uguale 3 elevato a x più 2 si tratta di un'equazione esponenziale perché l'incognita è esponente osserviamo che questa equazione è costituita da due funzioni esponenziali che hanno basi diverse base 7 e base 3 e non possono neanche essere ricondotte alla stessa base ad esempio se avessimo 9 elevato x anziché 7 allora 9 3 alla seconda e quindi potevamo ricondurci alla base 3 come base comune ma 7 e 3 sono primi tra loro quindi sicuramente non possono essere ricondotti alla stessa base per risolvere equazioni di questo tipo bisogna ricorrere ai logaritmi non c'è scampo non c'è scampo proprio perché il logaritmo comparirà proprio nella soluzione quindi è chiaro che inevitabile che questo logaritmo salti fuori nel processo risolutivo ma nonostante questo la procedura per risolverla è abbastanza semplice e adesso la vediamo insieme allora qui in alto ho ricopiato il testo 7 elevato a x uguale 3 elevato a x più 2 ora scomponiamo 3 elevato a x più 2 come 3 elevato a x per 3 alla seconda infatti per le proprietà delle potenze se facciamo il prodotto gli esponenti si sommano ora noi vogliamo portare tutte le x a primo membro e per fare ciò dividiamo ambo i membri per 3 elevato a x cosa che si può sempre fare perché 3 elevato a x è sempre diverso da 0 essendo la funzione esponenziale sempre positiva quindi a secondo membro 3 elevato a x e 3 elevato a x si semplificano e a primo membro abbiamo 7 alla x fratto 3 alla x ma dato che l'esponente è lo stesso possiamo scrivere questa frazione come un'unica potenza cioè 7 terzi elevato a x uguale 3 alla seconda quindi vedi facendo questi passaggi adesso abbiamo un'unica funzione esponenziale anche se la base è frazionaria però questo non è un grosso problema a questo punto entrano in gioco i logaritmi e possiamo applicare il logaritmo ad ambi membri e come logaritmo scegliamo un logaritmo che ha la base proprio uguale a 7 terzi e quindi applichiamo ad ambi membri il logaritmo in base 7 terzi di 7 terzi alla x uguale al logaritmo in base 7 terzi di 3 alla seconda ora il logaritmo e l'esponenziale sono 1 la funzione inversa dell'altra quando la base è la stessa e quindi funzione e funzione inversa si annullano a vicenda e lasciano solo x e quindi il logaritmo in base 7 terzi di 7 terzi alla x fa semplicemente x cioè si semplificano a vicenda un po come quando fate la radice cubica di x alla terza oppure fatte x per 2 fratto 2 sono sempre una la funzione inversa dell'altra ed hanno sempre x come risultato il secondo membro lo possiamo lasciare così e quindi abbiamo già trovato la soluzione cioè x uguale logaritmo in base 7 terzi di 3 alla seconda ora sebbene questa soluzione sia corretta in matematica spesso si preferisce esprimere i risultati utilizzando il logaritmo in base 10 oppure il logaritmo naturale in analisi di solito il logaritmo naturale perché facile da derivare integrare quindi sebbene di fatto questa sia già la soluzione vogliamo riscriverlo usando i logaritmi naturali per farlo applichiamo la proprietà del cambiamento di base che dice che un qualunque logaritmo può essere riscritto in una base a scelta prendendo il logaritmo in questa base scelta ad esempio il logaritmo naturale che sarebbe il logaritmo in base e e se avrà un logaritmo naturale sia numeratore sia a denominatore e a numeratore avremo il logaritmo naturale di 3 alla seconda a denominatore il logaritmo naturale di 7 terzi ora non dimostro questa proprietà perché bisognerebbe fare un video a parte però vi faccio vedere un semplice trucchetto per ricordarselo 3 alla seconda è scritto più in alto nel testo e quindi lo mettiamo a numeratore la base è scritta più in basso e la mettiamo a denominatore questa non è una dimostrazione è un brutale e squallido trucco per ricordarselo però può essere efficace ora per semplificare ulteriormente questa espressione sempre per le proprietà dei logaritmi il 2 che ha esponente può essere estratto e quindi rimane 2 per il logaritmo naturale di 3 e 7 terzi può essere separato nella differenza di due logaritmi quindi logaritmo naturale di 7 meno il logaritmo naturale di 3 e questo è il risultato scritto utilizzando il logaritmo naturale se per curiosità vuoi avere un valore approssimato di questa soluzione puoi calcolare i logaritmi con la calcolatrice e viene circa 2,5932 e infatti puoi verificare che 7 elevato a 2,5932 è circa uguale a 3 elevato a x più 2 cioè 4,5932 c'era anche un secondo modo per risolvere l'esercizio cioè applicare direttamente il logaritmo naturale ad amui membri anziché il logaritmo in base a 7 terzi e facendo alcuni passaggi si perveniva allo stesso risultato però così abbiamo anche ripassato il concetto di funzione inversa che è sempre molto utile se vuoi vedere altri esercizi su esponenziale logaritmi clicca sul rettangolo e accedi alla playlist che diventerà sempre più ricca tu mi puoi sostenere con un like e condividendo il canale con i tuoi amici ciao e grazie grazie grazie